ecco qua ma l'assaggiamo ma se non l'assaggi pure ci usiamo così non posso trovare casi puri non l'assaggi è buonissimo sorpresa vado lì oggi fa poco freddo oggi è una giornata proprio umida piove e facciamo un bel riso io sono proprio fritto mettiamo in un'alancetta soffita facciamo una cosa bionda non bruciata vedi mentre di qua che si sta facendo un po' di gioco per aggiungere il riso oggi è proprio la giornata proprio umida ma mettiamo il riso a tostare nell'olio dell'alancetta vedi facciamo un po' tostare Angela lo metto un po' di vino bianco per usare lavorare vedi ma mettiamo la bustina di soffera ecco qua vedi facciamo sciogliere un poco ecco lo mettiamo dentro diventa giallo diventa giallo ecco qua ma mettiamo l'alancetta che abbiamo consolato prima e mettiamo il formaggio ma adesso mettiamo il panigiano non mettiamo il pecorino come abbiamo messo sempre mettiamo il panigiano ecco qua e abbiamo fatto il risotto con salfarana e pancetta bello caldo caldo così perché mi animo da dire che avevo freddo ecco qua è pronto e teniamo il piatto ecco qua un po' se trovo cazzi fu lì non l'assaggi è un l'assaggio è buonissimo ci ho presa vado lì vado conciolato vado conciolato è buono